Per difendere la costa toscana dal fenomeno dell'erosione, la Giunta regionale sta lavorando alla nuova proposta di legge. Ad annunciarlo in Consiglio regionale l'assessore all'ambiente Anna Rita Bramerini. L'obiettivo, ha spiegato l'assessore, è concordare un piano di interventi annuali con gli enti locali per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Una sorta di cabina tecnica e osservatorio politico. Un altro obiettivo è quello di monitorare su scala regionale l'evoluzione della linea di riva e predisporre un catastro delle opere pubbliche a difesa della costa per semplificare e accelerare gli interventi, superando le difficoltà tecniche e amministrative di livello locale che possono determinare tempi molto lunghi di esecuzione. La capogruppo della Federazione della Sinistra, Monica Sgarri, ha espresso apprezzamento sulla proposta dell'assessore Bramerini, specificando però che occorre indegare anche su quanto fino ad oggi è stato realizzato. Secondo il consigliere del nuovo centrodestra, Marco Tardas, un osservatorio non basta ma bisogna guardare anche all'entroterra, dove si è costruito lungo i corsi d'acqua e svuotato gli alvei del fiumi, affrontando il problema dal punto di vista della pianificazione urbanistica del territorio.